PISCIA E MERDA Ma che altro potevano fare i ragazzini quando giocavano là fuori e gli scappava d'urgenza? Prima che l'ascensore arrivasse a casa, magari all'undicesimo, dodicesimo piano, facevano a tempo a farsela sotto e a buscarle anche dalla madre. Ho vissuto là da quando avevo sei anni, con mia madre, mia sorella e il gatto. E non ne potevo più di quella casa. La città è piena di manifesti del sound, la discoteca più moderna d'Europa e io ho una gran voglia di andarci. Un sabato ho detto a mia madre che avrei dormito da Cassie.